In compagnia di Carlo Troilo, che è membro del Consiglio Generale dell'Associazione Luca Coscioni, nell'apertura ci ha detto che lui in qualche modo è stato colpito da una vicenda personale che l'ha coinvolto in questa battaglia a favore del diritto di scelta, quindi per l'utanasia. Carlo, ci vuoi dire di che si tratta? Esattamente dieci anni fa mio fratello Michele, che era un malato terminale di leucemia, non trovando un medico disposto ad aiutarlo a morire, tranquillamente si è suicidato gettandosi del quarto piano della sua casa a Roma. Da allora ho cominciato a partecipare con l'Associazione Luca Coscioni a questa battaglia perché trovo che sia veramente indegno di un paese civile, che un malato che ha deciso di porre termine alle proprie sofferenze non possa farlo in modo tranquillo e civile, ma debba suicidarsi. Poi dopo, via via, sono andato scoprendo una realtà terribile, quella che poi i giornali ignorano quasi sempre, cioè che in Italia ogni anno mille malati si suicidano e altri mille tentano il suicidio, quindi abbiamo 2000 tentativi di suicidio o suicidi di malati ogni anno, non solo, ma negli ospedali l'eutanasia esiste, vedete, è un'eutanasia clandestina, del resto sappiamo tutti, anche per esperienze personali di amici che sono stati aiutati a morire dai medici, loro non possono dirlo perché andrebbero in galera, però di fatto sono 20.000 casi di eutanasia clandestina, quindi è un argomento che interessa una larghissima parte della popolazione, interessa a tutti perché è una questione di diritti civili preeminente. Peraltro tu queste cose le hai anche narrate in un libro di cui Libri di Vove ha assistito anche alla seguita della presentazione. Sì, io ho scritto un libro che si chiama Libri di morire, in cui c'era sì l'eutanasia ma in generale i diritti negati agli italiani, tutti, quindi le unioni civili, aborto e così e via. Questo libro ha avuto anche un certo successo, è stato presentato da Veronesi a Milano, da Mina Welby e da Marco Cappato a Roma, insomma ha avuto molte buone recensioni e ha contribuito come si può a tenere vivo il dibattito perché purtroppo la stampa ci aiuta poco e come possiamo vedere qui le forze di polizia non ci fanno neanche entrare davanti al Parlamento per manifestare pacificamente, che è una cosa assolutamente inverosimile purtroppo. Questa è l'Italia, è l'Italia che non rispetta le leggi e in questo caso il Parlamento non rispetta la legge fondamentale, cioè la Costituzione che impone di esaminare entro tempi stretti i disegni di legge di iniziativa popolare. Invece il nostro giace lì da un anno, per questo oggi siamo qui perché il 13 compie un anno la presentazione della nostra legge e continuano a ignorarla totalmente. Grazie Carlo Troilo. Grazie a voi.